Musica Oggi sono qui, mi trovo a Cerignola per questo bell'incontro che è stato organizzato da parte di Don Carmine sulla vicenda dei migranti e anche sulla costituzione dell'amore verso il prossimo. Ecco, io sono là a Lampedusa da più di un anno, un anno e qualche mese. La prima cosa che mi sento da dire è, una cosa è sentire le cose, una cosa là è vederle. Trovarsi sul posto fa la differenza perché tante volte, tante cose diciamo non vengono recepite spesso e non vengono anche veicolate nel modo corretto. Quello che accade a Lampedusa sono, ultimamente in questo periodo, magari qualcosa si trappela dalle testate giornalistiche, sono tante morte. Tante morte pure da bambini, quelle più atroge, più drammatiche, tragiche, bambini addirittura carbonizzati, bambini che muoiono assiderati dal freddo, dalla sete. Per cui venire qua è, in un certo senso, parlare anche per far capire che bisogna amare il prossimo, ma anche dire la verità su quello che succede. A volte, sai, capita di girarsi la faccia su quelle che possono essere le problematiche serie e vere nel posto in cui mi trovo. A volte, sai, capita di girarsi la faccia su quelle che possono essere le problematiche,